Nel corso della Grande Guerra le donne acquisirono all'interno della comunità nazionale una visibilità sociale del tutto inedita rispetto alle epoche precedenti. L'accesso delle donne alla sfera pubblica durante la Grande Guerra si concretizzò principalmente negli ambiti rivolti all'assistenza patriottica, come la realizzazione degli indumenti destinati ai soldati del fronte e anche nel ruolo di crocerossina presso gli istituti ospedalieri. Ma la Prima Guerra Mondiale costituì un punto di svolta soprattutto per quel che attiene il processo di costruzione sociale della presenza delle donne nel mondo del lavoro. Infatti i richiami alle armi di un numero sempre più crescente di uomini fece sì che in tutti i settori produttivi si assistette ad una progressiva femminilizzazione della forza occupata. In particolare all'interno delle fabbriche impegnate nella produzione bellica la presenza delle donne aumentò vertiginosamente, su scala nazionale esse passarono da 23.000 alla fine del 1915 a 198.000 alla fine della guerra. Occorre inoltre sottolineare che in conseguenza della partenza degli uomini molte donne dovettero affronteggiare per la prima volta le incombenze legate ai rapporti con l'apparato statale. Dovettero infatti acquisire una certa pratica con il linguaggio burocratico per potersi confrontare con le autorità civili e militari per tentare di ottenere sussidi, esoneri e licenze. Con l'ingresso in guerra dell'Italia il 24 maggio 1915 si istituirono i comitati di assistenza pubblica che si impegnarono in opere di soccorso morale e materiale con particolare riguardo alle famiglie dei combattenti e ai nuclei familiari più bisognosi. Già dal maggio 1915 in tutti i centri urbani della regione si moltiplicarono i comitati femminili di assistenza e soccorso. Un fenomeno così diffuso che si può parlare di una sorta di maternaggio pubblico e di massa, cioè quella tradizionale azione di cura caratteristica dell'atteggiamento materno applicata nel frangente della guerra ai traumi vissuti dall'intera comunità nazionale sia al fronte sia nelle retrovie. In Emilia e in particolare a Bologna nacque nel giugno 1915 il primo esempio italiano di ufficio notizie per offrire gratuitamente alle famiglie dei richiamati un servizio di corrispondenza e informazioni in merito alla situazione dei militari al fronte. In tutta la nostra regione le sezioni femminili del comitato di preparazione civile si rivolgono alla cittadinanza con un caldo appello per la raccolta di tutto quanto era necessario alla costituzione di nuovi ospedali sussidiari nella preoccupazione che gli ospedali organizzati dal governo e dalla Croce Rossa potessero rivelarsi insufficienti. E ancora nel maggio 1915 la sezione dame del comitato della Croce Rossa organizzava a sua volta una raccolta di fondi a favore del soccorso ospedaliero. I comitati femminili si mostrano appunto per garantire ai figli dei richiamati e agli orfani di guerra servizi di doposcuola e cure balneari. Gli ospedali e luoghi di cura della nostra regione rientravano tra i cosiddetti servizi sanitari territoriali che insieme a quelli di prima linea e ai servizi di tappa intermedia accoglievano i feriti e gli ammalati provenienti dal fronte. Nella nostra regione i soldati feriti e ammalati venivano portati in treno o in nave dopo un lungo peregrinare nelle strutture di cura in prima linea e in quelle di tappa intermedia. Le scienze mediche fecero notevoli progressi nella nostra regione durante la guerra. Furono in particolare la chirurgia, l'ortopedia, la fisioterapia, la radiologia e la batteriologia a uscire trasformate da quella drammatica esperienza che mise duramente alla prova medici, infermieri e personale della Croce Rossa. Di particolare importanza è la vicenda dell'Istituto Ortopedico Rizzoli a Bologna che insieme ad un'analoga struttura di Milano divenne l'unico centro autorizzato a realizzare protesi per i mutilati di tutta Italia prodotte proprio nelle sue officine specializzate. Nascono così i comitati provinciali dei mutilati e degli storpi di guerra che forniscono cure fisiche specializzate e attività rieducative. Oltre alle cure non meno importante è poi la riabilitazione verso il mondo del lavoro. Per rispondere a questa esigenza si allestiscono le scuole di falegnameria, calzoleria, sartoria, meccanica e lavori agricoli. Dunque possiamo dire che nella grande guerra le donne entrano a milioni in settori che prima erano loro preclusi. È una specie di invasione femminile nelle più diverse realtà professionali, innanzitutto nell'industria bellica ma anche nell'amministrazione pubblica e perfino nelle forze armate, lavorando sia nelle città con compiti di assistenza sia al fronte come infermiere, guidatrici di ambulanze e ausiliari e militari. Questa situazione genera meraviglia e preoccupazione sociale specialmente nella nostra realtà italiana dove la tradizione culturale e religiosa vede nel lavoro fuori casa delle donne una minaccia alla purezza femminile e all'integrità del nucleo familiare. Ma le classi dirigenti nel momento in cui chiamano a raccolta le energie femminili del paese non possono non mostrarsi più attente alle loro aspettative perché sembra evidente che il dovere dell'impegno richiesto alle donne richiamava per forza di cose un loro diritto, il diritto di cittadinanza. Come sappiamo questa emancipazione fu tradita dal momento che in Italia il suffragio femminile non fu introdotto alla fine della prima guerra mondiale. Solo nelle elezioni del 2 giugno 1946 tutti gli italiani uomini e donne votarono contemporaneamente per l'assemblea costituente e per un referendum che chiedeva al popolo di scegliere per l'Italia la monarchia o la repubblica.